Ciao ragazze, ebbene come promesso questo è il mio primo tutorial sui prodotti che utilizzo per la cura dei capelli ebbene ragazze, da tempo sinceramente io utilizzo i prodotti facilmente reperibili in qualsiasi profumeria o supermercato così ho deciso di iniziare ad utilizzare prodotti prettamente diversi anche guardando i tutorial di alcune ragazze che come me fanno dei video su youtube così mi sono avvicinata a questo nuovo mondo a un mondo fatto completamente di prodotti naturali e biologici e così ho approfittato delle promozioni che erano su questo sito su eccoverde.it per effettuare il mio primo ordine di prodotti bio vi spiego, questo sito ragazze è molto fornito, presenta diverse marche quindi sinceramente non avendo mai fatto alcun ordine di prodotti bio per me ogni marca era uguale all'altra così ho deciso di effettuare questo primo ordine approfittando anche delle promozioni e per essere più dettagliata ho qui con me la fattura del mio ordine che ho effettuato in data 13 gennaio di quest'anno così potrò essere molto più dettagliata per quanto riguarda la descrizione dei singoli kit che ho acquistato e dei prezzi di ogni prodotto allora ragazzi ho acquistato soprattutto degli shampoo quindi dei kit con shampoo e balsamo della Lavera che è una marca che io onestamente prima non conoscevo e che man mano che sto utilizzando me ne trovo veramente soddisfatta perché i prodotti sono buoni e le profumazioni ragazzi sono eccezionali passiamo a vederli direttamente allora il primo kit che ho acquistato è questo kit sempre della Lavera come vi dicevo che si compone di due sciampi da 200 ml che presentano questa struttura due sciampi da 200 ml è un balsamo da 150 ml il kit ragazzi l'ho pagato esattamente 10,49 euro vedete? 10,49 euro e cosa dirvi? è un prodotto veramente eccezionale ragazzi allora per quanto riguarda la profumazione di questo kit è una profumazione dolciastra ha un retrogusto leggero all'anice e il profumo è veramente estasiante in quanto comunque sulla cute anche quando massaggiate i vostri capelli il prodotto viene realmente assorbito dal capello e a differenza dei prodotti che comunque trovate in commercio ho potuto notare che soprattutto quando applicate il balsamo il capello non tende ad essere pesante unto e liscio lasciandoci insomma pensare che il prodotto agisca sui capelli invece questo prodotto così come gli altri balsami e gli altri shampoo degli ulteriori kit che ho comprato tendono il capello a renderlo un pochino più arido più secco in tal modo il capello assorbe interamente il prodotto e realmente nell'asciugatura poi dei capelli nella piega si sente che il capello è sano è veramente rimpolpato dopo questo kit ragazzi ho acquistato un altro kit sempre della stessa marca all'avocado e al mango quest'altro kit si compone come il precedente di due shampoo sempre da 200 ml e un balsamo da 150 ml e questo qui invece è nella profumazione di mango e avocado sempre bio con il certificato ragazze e vi dirò la verità questo prodotto è in assoluto tra i kit che ho acquistato il mio preferito perché comunque la profumazione è molto leggera e dolciastra realmente si sente l'avocado il mango e inoltre non appesantisce i capelli la profumazione resta sul capello anche dopo la piega del capello voi sentite comunque questa leggera profumazione all'avocado inoltre anche la consistenza di questi prodotti mi ha sbalordita in quanto lo shampoo questo flacone è quasi terminato lo shampoo presenta una composizione molto più gelatinosa ha un colore paierino e quindi anche quando lo applicate sul capello non fa moltissima schiuma e quindi viene assorbito anche dal capello in maniera molto più naturale invece il balsamo presenta una composizione molto più spumosa sembra quasi una schiuma da barba ed è molto molto più leggero da applicare soprattutto quando lo applicate sulla mezza cioè sulla mezza punta sulle mezze lunghezze scusatemi il balsamo veramente tende ad essere morbido sul capello ad essere assorbito io di solito l'applicazione del balsamo la effetto per 5 minuti insomma lascio che il balsamo agisca per bene sui capelli e dopo di che risciacquo e ragazzi mi trovo benissimo oltre alla profumazione anche la struttura di questi prodotti è veramente eccezionale quest'altro kit per capelli colorati l'ho pagato 10,99 euro e questi qui ragazzi erano tutti in promozione vi dico che i singoli prezzi degli shampoo siate questo kit che è del kit precedente quindi quest'altro shampoo che era a base di acqua in mandorla dolce i singoli prezzi sono di 3,38 euro e 3,66 euro per quanto riguarda invece quello di capelli colorati 3,38 euro e 3,66 euro invece i balsami li ho pagati 3,56 euro questo qui di La Vera sempre il basis e 3,66 euro la Vera questo qui al mango ovviamente ragazzi essendo un sito comunque che vende prodotti biologici e quindi prodotti prettamente costruiti con sostanze naturali comunque ho trovato che i prezzi anche non avendo promozione non sono molto elevati quindi bene o male sono alla portata di tutti noi insomma infine come kit ho preso questo qui sempre della La Vera alla rosa e alla cheratina questo si compone in maniera diversa perché ha uno shampoo di 200 ml poi presenta un balsamo di 150 ml infine un kit cioè diciamo uno spray riparatore per le punte allora ragazzi questo kit non so dirvi esattamente com'è perché io su di me non l'ho testato però vi posso dire che l'ha provato mia sorella e si trova benissimo l'unica pecca che tende un pochino a seccare il balsamo le punte dei capelli tende un pochino a renderle secche però vi assicuro che dopo la piega comunque il capello è molto più leggero molto più sano e mia sorella appunto si trova benissimo poi lo utilizzerò e vi farò sapere e nulla ragazzi quindi vi consiglio assolutamente questo sito anche perché in questi giorni ho consultato nuovamente il sito e le promozioni sono ancora in atto quindi ve lo straconsiglio anche perché i prezzi sono veramente abbordabili e inoltre i prodotti sono veramente ottimi fatemi sapere ragazzi se anche voi avete acquistato qualcosa della lavera e come vi trovate e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao